ballare bello è divertente fa nascere amicizie con solida legami il ballo di gruppo ancora di più perché non hai bisogno di un partner o non hai bisogno di una certa preparazione atletica senti la musica che ti piace ti butti in pista e balli playa latina 2013 il ballo che unisce vuole essere proprio questo una kermess di balli di gruppo presentati da tante scuole di ballo della romagna proprio per far ballare la gente e per fare aggregazione quindi puro divertimento collettivo ed individuale grazie alla collaborazione con galletti e boston ringraziamo anna galletti che ha fornito tutte le canzoni fra le quali le scuole di ballo partecipanti hanno scelto il brallo preferito per realizzare il proprio ballo inedito un grazie a tele romagna che è nostro partner un grazie alla bvs i nostri fotografi che questa sera si aggireranno e ancora a tutti i nostri sponsor quest'anno playa latina arriva alla quarta edizione importantissima perché da gara passa a avere propria rassegna le scuole di ballo presenti sul palco dovranno dare il loro meglio possibile perché nessuno vincerà come gli anni passati ma fra il pubblico ci saranno dei segnalatori e forse una di queste scuole potrebbe essere quella che a novembre gira un videoclip per la televisione per un'orchestra famosa quindi una serata piena di divertimento di ballo ma anche tanta visibilità e magari la possibilità di un futuro ballerino questo è playa latina 2013 elena marina responsabile della sd atletica mercurio di marina di ravenna cosa c'entra lo sport con il ballo il ballo unisce e quindi unisce anche tutti gli sport l'atletica chiaramente è un è uno sport molto tecnico quindi è completamente l'opposto di quello che è il ballo che è così è morbidezza e scioltezza del corpo ed espressione libera del corpo quindi sono due cose nettamente distinte però il ballo unisce quindi unisce unisce tutto quindi vedremo delle ragazzine che hanno ideato loro un ballo dall'atletica sono passate al ballo a loro devo tanto riconoscimento perché sono state bravissime e quindi vedremo dopo perché il ballo unisce e sono qui con giuliana casatta la professoressa di musica delle scuole medie di marina di ravenna erico mattei e con sabrina una professoressa di musica che insegna ballo come mai allora premetto che le attività di musica le facciamo quindi facciamo flauto facciamo strumenti canto cultura musicale però spesso nelle mie ore inserisco attività di danza e di musica con il di movimento con la musica perché ritengo che sia un'attività molto formativa per gli alunni perché fa bene alla mente fa bene al corpo fa bene allo spirito fa bene alla mente perché allena la memoria migliora l'andare a tempo fa bene al corpo perché migliora la coordinazione l'indipendenza del movimento delle varie parti del corpo insomma direi l'armonia fisica in generale e fa bene allo spirito perché stimola l'autostima migliora le relazioni magari rallenta un attimino certi atteggiamenti egocentrici o aggressivi e invece magari incoraggia gli alunni più timidi quindi direi che dal punto di vista educativo pedagogico il movimento stimolato dalla musica è importante come il linguaggio verbale come il linguaggio musicale il linguaggio visivo direi è bellissimo quello che mi racconti come l'hanno presa i ragazzi ai quali hai proposto di fare ballo invece che di fare solfeggio sai il classico flauto la chitarra beh chiaramente per i ragazzi tutte le attività di movimento tutte le attività che sono al di fuori del banco vengono sempre accolte con grande entusiasmo in particolare quest'anno ho trovato un gruppo di ragazzi veramente interessate all'attività tant'è che sono arrivati anche in orario extrascolastico hanno fatto le prove durante le vacanze con questo caldo io veramente li ringrazio per essere stati così bravi e ringrazio anche tutti i genitori che hanno avuto la pazienza di accompagnarli allora giuliana l'ultima domanda perché questo tipo di musica allora eseguiranno delle danze provenienti dall'armenia dal da israele dalla penisola balcanica dalla grecia quindi tutti i paesi ponte tra l'oriente e l'occidente tutti i paesi in cui la la danza e tutti i popoli sono molto legati alle tradizioni alle loro radici e la danza è una delle tradizioni più vive in questi popoli e quindi e poi le musiche sono talmente belle e accompagnate da una gestualità da una coreografia molto elegante molto raffinata e siamo qui con eric di dinamica latina una delle scuole che partecipa a quest'anno play latina 2013 eric è il secondo anno che partecipi ma come mai troppo bello stare con voi troppo bello divertirmi l'ambiente la musica e il nostro la nostra vita è tutto allora so che voi avete la scuola a imola spiega un po dove ti trovano le persone se vogliono venire a imparare da te allora noi apriremo una scuola a imola a ravenna e a faenza in questo momento stiamo aprendo così le location le pubblicheremo su facebook su dinamica latina e quindi seguiteci seguiteci su facebook che siamo sempre lì la scuola one it off qui con me roberto michela marica e antonella il primo anno a playa latina come mai ci piace ci piace questo evento ce l'hanno spiegato ci è piaciuto subito l'idea bella e ci vogliamo divertire tutto qui niente di più grazie michela siete una scuola dove vi troviamo se vogliamo venire a imparare i vostri balli che vali proponete ci trovate a faenza abbiamo la sede in via santa lucia numero 14 e che tipi di balli facciamo li facciamo tutti salsa cubana salsa portoricana rueda baciata chizomba bughi folk danza del ventre tip tap hip hop poi vuoi qualcos'altro zumba fitness zumba sentao tango argentino basta perché cala la luce e sono qui con gli amici di salsa caribe dance quarta edizione di playa latina quarto anno che sono sul palco con noi questo vuol dire che vi siete divertiti moltissimo anzi speriamo che ci sia anche una quinta una sesta una settima ottava edizione anche perché a noi sinceramente ha portato fortuna una buona iniziativa siamo sempre stimolati a fare delle cose nuove per cui anche il balletto di gruppo dove noi siamo molto forti in questo però devo dire soprattutto il maestro enea qui a fianco e per cui siamo molto stimolati a fare queste cose nuove e il balletto nuovo anche di quest'anno è stato molto stimolante devo essere sincero wow da queste parole sono già impressionata presto lo vedremo perché si sarà lo svolgimento della serata dall'altra parte chiedo siete una scuola dove insegnate dove vi troviamo ok noi siamo una scuola che fa quasi tutto caribico ma non solo perché quest'anno comunque avremo anche in corso di bambini dai più piccoli che partirà dai quattro anni per cui vogliamo fare un vivaio ok senza nulla togliere i vecchietti che abbiamo già io dico gli chiamo vecchietti in maniera amorosa in verità è di gente della mia età per cui se sono vecchi loro io sono proprio e ricordo sempre che io e te avevamo scuola insieme facciamo le metà e tutte le volte capito punta il pugnale comunque no noi abbiamo un sito internet che è www.salsacaribidance.com lì all'interno ci sono tutti i nostri corsi noi inizieremo come sempre a fine settembre la nostra sede principale è in via narset a ravenna abbiamo una sala teatro dove lì facciamo la maggior parte dei corsi poi abbiamo anche il dojo club che è una palestra sempre lì nelle vicinanze e all'interno di queste location noi facciamo tutti i nostri corsi per cui sia per bambini per adulti salsa cubana salsa portoricana baciata quest'anno abbiamo anche la chizomba che diciamo una cosa nuova per noi anche se è un po' che gira e il nostro forte però come ti dicevo sono i balli di gruppo il giovedì noi è già due tre anni due tre anni terzo anno che noi abbiamo questa iniziativa dei balli di gruppo che va molto bene e noi utilizziamo soprattutto i balletti nuovi anche fatti da noi con Playa Latina per proporre poi l'estate nelle piazze o nell'animazione e ringraziamo tutte le scuole che questa sera sono state sul palco di Playa Latina la SD Atletica Mercurio e la scuola media Enrico Mattei di Marina di Ravenna tutti gli sponsor che hanno reso possibile questa manifestazione la Proloco di Marina di Ravenna per il suo grande aiuto e non posso dimenticare il Comune di Ravenna e la Provincia di Ravenna per il patrocinio e noi ci rivediamo a Playa Latina 2014 ciao grazie a tutti